Ciao a tutti amici e bentornati in 7 days to die, the survival of the crafting game. Come al solito io sono Amor, iscrivetevi al benvenuto in questo nuovissimo video. Amici pronti a continuare la nostra avventura in 7 days to die? Sì, io sono pronto, voi siete pronti, credo di sì, vi stavo impappinando, ma chi se ne frega vi ricordo come al solito di supportare questo video. Con un bel mi piace, anzi questa sera, questo canale, questo video, cioè in generale, con un bel mi piace. È importante farmi sapere che vi sta piacendo. È un bel mi piace, ci vuole un secondo schiacciarlo per dimostrare questa cosa qua, perché serve per far crescere il canale e tutto. Vi ricordo inoltre che potete ovviamente commentare il video, dando i vostri pareri. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale, attivare la campanella e poi pagina Instagram, pagina Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questo fantastico gioco. Detto questo, ci vediamo in game! Ed eccoci subito in game e iniziamo già a menare le mani, nonché gli zombie, menare le mani sugli zombie e soprattutto elettrificarli il male... E che cosa fai? Maledetto! Maledetto lui... No! Ma fa subito! Ma che cavolo, maledetto! Ma subito è infettato quel maledetto qua, guardatelo! E non è ancora morto il maledetto! Devi morire male! Devi morire male! Malissima! Ai ancora! Ora! Ma caccia Eva, ma che cavolo, iniziamo malissimo, devo dire, la puntata! Che in pratica non è che sono poi più andato avanti rispetto a prima, vi faccio vedere comunque la base nostra dall'esterno che sta pian piano crescendo. Mi sono impasticato ovviamente perché altrimenti rischiavo di morire, adesso sto guarendo. Vediamo le nostre piantine che stanno crescendo pian piano. Qua, zona serra, non sono andato avanti perché sono ancora da solo come potete ben vedere e anche sentire. Non c'è nessun altro, ma andrò avanti forse già in questa puntata. Ma la prima cosa che voglio fare assolutamente in questa puntata è andare dal trade a vedere se ha qualche bella missioncina per noi per portarci a casa un po' di dindini, un po' di cocuzze, un po' di soldi che assolutissimamente ci servono per il proseguo di questa avventura. Dunque la missione è molto lontana, guardate qua, noi siamo qua, però in una zona inesplorata. Non male in più ci sono queste cose interessanti e dobbiamo provare anche il nostro senso per scoprire se ci sono degli animali. Così vi faccio vedere perché io ho già cacciato animali in questa condizione e funziona, però volevo farveli vedere. Ma raggiungiamo piano piano quel posto là, visto che di stamina non ne abbiamo molto, abbiamo un malus per l'energia troppo bassa. Speriamo di recuperarle e di trovare qualcosa in giro. E altro bel zombettino! Beccati un po' la scossa, va maledetta! Dunque ho mangiato qualcosa ma non è servito a tanto, va proprio curato, bendato, comunque utilizzato roba che serve per recuperare un attimo questa brutta cosa. Perché ha stamina veramente bassa e quindi bisogna recuperare... Belli questi, molto belli, non so se il person... Sì, il personaggio direi che è un po' nudo, quindi li indossiamo. Oh là, un po' meglio. Abbiamo dei punti da spendere, io li spenderei qua sicuramente così prendiamo questa energia dall'etere, dalla natura. Si può addirittura aumentare questa cosa qua. E uno in... un altro in iron gut. E così consumiamo di meno che è quello che serve. E uno direi anche in cardio se riusciamo. E abbiamo speso i nostri punti, come da vostri commenti, sulla salute. Ora il personaggio ha anche fame, devo trovare assolutissimamente qualcosa da mangiare. Ci stiamo dirigendo verso il posto lì, non manca in realtà tantissimo. Però sto trovando tanti di questi che ci servono a go-go per la nostra serra. E direi anche di vrenciare la macchina che si sposta, come vedete. Non so se è un bug o qualcosa del genere. Hanno cambiato il rumore della macchina mentre la si svrencia. E si muoveva tutta, che cosa veramente strana. Però recuperiamo anche le cose della macchina. La missione è in fondo qua, credo, nella città. Qua ci dovrebbe essere una città, ha passato il ponte. E andiamo a vederla. Che è la città, se non erro, ma non credo di sbagliare. Dove una delle prime volte avevamo fatto la base qua. E' cambiato il bioma. Cioè il bioma qua no, di là c'era il deserto, se non erro, qualcosa del genere. E però è una delle zone dove avevamo fatto la prima volta la base. E guardate qua la chiesa distrutta che c'è qua. E siamo vicini qua alla missione. Intanto sto cercando di recuperare il possibile cose che potrebbero esserci d'aiuto. Non mi dire che la missione è dentro lì. Che cosa diavolo c'è dentro lì? Allora qua ci sono delle snowberry che non fanno assolutissimamente bene. Si intende. Però è l'unica cosa che abbiamo da mangiare. E io me la mangio volentieri. Sperando di trovare altro qua. Guardate. Cioè proprio questa roba non l'avevo mai vista. Siamo a Perishton. Ma tutta sta roba non l'avevo mai vista. Iniziamo a recuperare le cose quanto più possibile. Oh, del painkiller che ci serve. Assolutissimamente ci serve. Qua abbiamo pumpkin seed. Allora scrappiamo qua, scrappiamo qua, scrappiamo questo. Queste le teniamo che ci servono. Questa la usiamo. Molto bene. Questa la mangiamo. Ok, così recuperiamo. C'è un po' di gente qua. Ma a questo punto io direi di far partire quasi quasi la missione. Oh là. Facciamo fuori questi zombie qui. Se riusciamo. Sempre se riusciamo. Perché qua la stamina è veramente bassa. Maledetto. Devi proprio friggerti. Friggerti. Vi dovete friggere tutti. Tutti vi dovete friggere. Poi ho una pistola con un bel po' di colpi. Che ci serviranno ovviamente. Perché qua sicuramente... Aspettate. Un po' cosa c'è qua. Qua segna zombie ovunque. Ma io non li vedo. Il che mi fa pensare che siano... Dentro qua da qualche parte. Non mai fa... Oh, questo ci serve. Però forse l'avevo già scoperto. Magari è meglio darlo tipo a presto. Qualcuna! Ho visto una roba bruttissima. Se non erro... Se non erro... Se non erro... C'è un orso dentro lì. Se non erro... C'è un fottuto orso. Sì, è così. C'è un maledetto orso. Guardate. Maledetto. Doppio orso! Due orsi! Andate a morire male orsi! Poi era morte sicura se ne entravo. Cioè se cadevo era morte sicura. Vai morite orsi! Maledetti orsi! Gli orsi delle... Che cosa sono? Gli orsi delle fogne. E no... Eeeh! Cos'è? Oh, arriva andab... È caduto dentro! Fantasco! Quello là lo lasciamo là. Questo qua è caduto dentro. Ma secondo me qua c'è altro. Sapete che qua secondo me c'è veramente altro? Credo che si stiano pestando a vicenda. Guardate! Sì, si sta pestando il tizio lì. Guardate! Sta pestando gli zombie, sembra. Forse no. Muori male. Muori male. Muori male. Muori male. Ok. Adesso vai di orsi. Uno è morto. Molto bene. Uno è morto. L'altro dove cavolo è? Muori. Muori. Oh là! Siamo sopra qua. Molto bene. Ora ci sono altri zombie. No, return to trade. Il problema è che c'è... Questo maledetto qua. Uh. Rischiosissimo. Andiamo a vedere fuori... Se c'è altro. Spero di no. Però vorrei andare sotto qua adesso. No! No! Maledetto questo qua. Ma possiamo uscire da qualche parte? Via. Ammazziamolo. Facciamo fuori gli orsi. Perché gli orsi ci danno... Tutta questa rotta in flash che ci serve. Fottio! Vai! Vai! Questa rotta in flash a manetta. Era meglio la carne mangiare, ma... Va bene. Mica la buttiamo via. Magari trovi un'altra cosa. Che cavolo c'è qua? Perché siamo... Cosa stai facendo? Vai giù. Muori male. Muori male. Muori male. Che cavoli. Pieno di quei cose lì. Devo sbrigarmi in qualche maniera. Facciamo fuori queste cose qua. Poi... Recuperiamo in giro altre robe che ci sono. Assolutissimamente. Tipo qua. Vediamo cosa c'è. Oh, qua c'è quella cosa che... Per servire per craftare quello... Che cosa sono quelle... Quelle cavole di semi che ho trovato? Vediamo un po'. Qua abbiamo questo. Vabbè. Recuperiamo tutto, anche se molte cose... Attualmente non ci serve. Ma qualcosa da mangiare no, eh. Tutte schifezze. Queste scrappiamoli. Queste scrappiamoli. Qua vediamo se c'è qualcosa di interessante. Niente. Qua c'è uno spiazzo per andare da qualche parte. Direi che l'unica via di uscita sembrerebbe sì. Però non riesco a saltare. Come faccio a saltare qua? Devo ingegnare in qualche maniera? C'è una bella cassettina. Il problema... Guardate. Che non riesco ad andare sopra la scala. Maledetta scala. Ma come si fa a fare una scala così? Ma non me l'hanno mai testata sta roba? O che cosa? Tocca quasi quasi distruggere qua. Ma non la scala doveva distruggere! Vabbè, così quasi distruggo tutta la scala e mi arrampico sui wood frame. Così. Easy. Che easy. Che easy. Ah, sono dall'altra parte della barricata lì. Vediamo cosa c'è dentro qua. Magari qualcosa di interessante. Tutta sta fatica per degli Iron Boots. E noi tra l'altro... Ho trovato anche questo. In realtà abbiamo gli Iron Boots di livello 1. Insomma, sempre qualcosa di problema che adesso bisogna passare di qua. No, beh, in realtà basterebbe rompere questi, se riesco a scendere, e impegnarli da questa parte qua. Già che ci sono faccio un giro nella casa qua, perché è la cucina. E magari trovo qualcosa di interessante da mangiare, spero. Rotting Flash. Noi troviamo solo Rotting Flash. Troviamo nient'altro. Pumpkin Seed se ne trovano un bel po', devo dire. Ora, vediamo qua magari... No, non ti armo. Qua sì. Qua di sicuro c'è. Sì, c'è una bevanda energetica. Non male, ce la prendiamo. Non è una roba da mangiare, però potrebbe farci bene. Ora qua, nel forno a micro... Ehi, forno a microonde. Forno a microonde, vediamo. Oh, c'è questo che, insomma, non è il massimo, però lo possiamo mangiare. Wow, wow! Che cavolo esploso! C'era una mina che non ho visto. Qua mo' stanno spaccando tutto i maledetti. Ok, meglio andarcene e tornare verso casa. Sta anche piovendo. Abbiamo 16 di energia. Ecco, vi faccio vedere la funzione che vi dicevo. Mi sono praticamente abbassato. Vedete? Ci dice, sostanzialmente, che qua vicino dovrebbe esserci qualcosa. Però non lo vedo, vedete? 20S, 19S... Ah no, è la funzione forse che ci dice che vicino c'è qualcosa, ma non è così vicino da farcela vedere nella mappa. Ed eccoci tornati finalmente al trade. Sono conciato malissimo. Guardate, 10 di vita, 9 di vita. Cioè, praticamente sto morendo. Spero che il trade abbia qualcosa da comprare. Sì, allora, prendo, sì, gli antibiotici, assolutissimamente. Fammi vedere cos'è nel tuo inventario. Sì, delle uova bollite. Male. Potremmo mangiarne già una. Forse riusciamo a risparmiarci qualcosa. Vediamo, 5, 6, sì. Per fortuna, sì. Spendere i soldi per la roba da mangiare non è mai bene, però guardate, ci ha subito dato, guardate, qualcosa in più. Andiamo a vedere se ha altre cose. Sì, grill and meat. La compriamo, poi compriamo... Basta, direi che queste qua sono più che sufficienti. Sei un vero ladro, amico. Però, mi serviva mangiare assolutissimamente. Il cibo è un vero problema di questa alfa. Problema nel senso, hanno forse esagerato. Perché anche fare la coltivazione così è veramente difficile. Però, riusciremo. E una cosa la devo fare, mettere il baker nel baker, che era l'ultima cosa che mancava qui. Posso fare delle uovette? Sì, ma mi serve bottle water, che noi abbiamo. Ovviamente, andiamo a fare delle uova. Sode! Perché ho bisogno di mangiare. Ben denne, possiamo fare ben otto. Direi di farle, assolutissimamente. Inizio a svuotare un po' l'inventario. Ora, quante farm riusciamo a fare? Due. Di cavolo, adesso ci manca il nitrato. Abbiamo tantissima rotting flash, ma ci manca il nitrato. Il nitrato che, tra l'altro, possiamo fare. Uno stack of nitrate powder. Ma, cioè, però, non capisco. Però, va bene. Possiamo anche trovare in giro. Possiamo anche comprarlo dal trade. Però, ci permette di farne altre due che, all'inizio, due fanno la differenza. Il personaggio non riesce manco a salire da qua. Allora, facciamo così. Iniziamo a mangiare le uovette. Che ho fatto. Poi, utilizziamo le bende che ho fatto. Facciamo un bel usa. E ci leviamo un po' di schifezze qua. Oh, là! Molto, molto bene. Vediamo un po' qua, sì. Pumping plant, potato plant. Pumping groving sta crescendo. E questo qua sta crescendo. Ma queste, in realtà, sono già belle che pronte. Guardate. Tac. E altre patate. Molto bene. Allora, piantiamo le altre due di queste. Sempre qua. Qua faremo la fila così. È decisa. La cosa importante è che abbiamo una blueberry seed. Wow! Molto bene. Poi c'è un altro corn seed. Oppure una yucca. Io pianterei la yucca seed. Ok, così abbiamo, credo forse, quasi tutte le piante. Manca quella del caffè. Manca altro po' di cose. Però va bene così. Abbiamo due potato seed. Molto bene. Della yucca. E qua, ok, iniziamo ad avere cose molto interessanti. Dobbiamo continuare con la sera, amici. Ma su questo tramonto vi dico che per questa puntata è tutto. Vi voglio ricordare di sopportare questa sera con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale. Supportate, mi raccomando, la sera. Attivate la campanella per il canale per essere sempre aggiornati. E aggiornamenti che potete trovare nel canale Instagram, nel gruppo Facebook. Anzi, nella pagina Facebook. E nel gruppo Telegram. Facilissimo. Tutti gratuiti. Iscrivetevi. Facile. Link in descrizione anche per la playlist di questo fantastico gioco. Davvero su tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.